benvenuti grazie grazie ecco vedi avete le volte le volte questo è il quanto basta ragazzi quanto basta in assoluto perché quanto basta perché sicuramente metri quadri che sono che sono 37 e mezzo questo era una struttura abbandonata diciamo da 14 anni perché nessuno pensava di poter fare mai un locale in 37 metri quadri perché fino a quel giorno non si poteva pensare a un posto senza la patatina fritta l'insalata la birra e noi abbiamo fatto concentriamoci sul cocktail bar c'era quanto basta quanto basta era quanto basta questi sono intanto i nostri menù ragazzi grazie molto semplici perché quanto basta e quanto basta anche nello stile nella decorazione del cocktail deve essere veloce deve essere buono e la gente deve stare bene la vostra caratteristica è questa capacità di essere molto friendly molto invidiali si sembra una cosa del sud penso in voi c'è proprio una sorta di marchio di fabbrica cioè tutti vi adorano ma voi quando avete aperto eravamo gli unici in salento e c'era qualcosa che si sentiva in puglia ma siete stati i primi forse a prendere un locale così piccolo e a fare il cocktail bar perché prima non c'era forma di cocktail bar intesa come l'entendiamo adesso noi siamo partiti che avevamo pochissimo avete messo i vostri risparmi si siamo partiti con pochissimi soldi avevamo 122 euro in cassa di di fondo cassa appunto il giorno dopo magari si avrebbero diventati 117 perché due birre le bevi la sera diciamo in quanti mesi in pochi mesi siamo riusciti a rinvestire i soldi nella in una ristrutturazione più accurata diciamo massimo ma ti va di spiegare che cos'è un cocktail bar perché noi lo diamo per scontato però non è scontato sapere che cos'è un domandone complicato andrea mi deve aiutare allora questo è un bancone da cui probabilmente deriva la parola bar no perché è una barra che di fatto separa il cliente dal l'avventore insomma dalla dal bartender però secondo il mio modo di vedere invece proprio il punto di unione oggi io ordinerei guarda io prendo l'oro in bocca assolutamente per me un'acqua salata e io me l'ho appuntato e non lo trovo più me lo sono scordato ma ce l'ho ce l'ho ce l'ho eccolo qua charlie parker facciamo subito grazie io inizierei a discutere l'oro in bocca perché ha un nome sì è un twist sul morning glory fits a base di whisky con pelmo rosa miele al pestre e li guarda la cannella è curioso il morning glory fits perché è un long drink con all'interno una corposa parte di whisky tra cui whisky turbato invece il mio bilbo di meri è molto buono ma ovviamente non c'è succo di pomodoro c'è un acqua di pomodoro una crustace di sale di cappero ok come una vodka gregoose aromatizzata all'olio di liva quindi è molto territoriale diciamo è interessantissima oltre che l'acqua di pomodoro è molto interessante la crustace di sale di cappero e ti volevo chiedere come si fa se la fate voi la facciamo noi invece il drink di massimo è un charlie parker che è un twist sul mommy taylor che è una cantante storica della fine del diciannovesimo secolo era un jazzista anche charlie parker era un jazzista in questo momento sta passando il messaggio che se non hai strumentazioni di un determinato tipo non si può miscelare io penso che il bar non ha barriera va bene tutto il bar ogni forma di bar però come dici tu c'è sto periodo storico dove se non hai centinaia di bottiglie non il bar non ne vale la pena portarlo avanti invece è come il jazz no ecco il jazz come il jazz una musica cos'è uno strumento cos'è cinque corde 80 tasti sono finiti esatto è la persona che sta dietro che le rende poi infiniti no quanta musica si può fare da da un pianoforte infinita è la stessa cosa con 10 bottiglie quanto quanto quanti drink vuoi fare 10 bottiglie infiniti perché tu sei infinita il quanto basta è veramente un esempio perfetto del modo in cui lecce sia aperta al mondo del bar contemporaneo